Domani non ci sono. Tony! Tanta roba qua! Tanta roba qua! Tanta roba qua! Era ora, è successo, ce l'avete fatto. Questa è quella giusta. Gerry è la prima sporta che fai. Sì, sì, è la prima. Primoci al cocco, non c'è problema. Quanto non le paga lui? Adesso vuoi ingrassare. Puoi pure ingrassare adesso. Puoi pure ingrassare adesso. Poi andiamo a spaccarmi da te. Grazie a tutti.